L'ennesima sconfitta che complica ancora di più il discorso salvezza. La Virtus Cassino perde in casa anche contro Scaffati e rimane all'ultimo posto in classifica con solo due punticini in cascina e non approfitta del capo di Legnano per accorciare. Al palazzetto dello sport di Frosinone termina 69 a 73 per i campani. Per la Virtus sono stati tre gli uomini al referto in doppia cifra, ma alla fine neanche questa volta sono arrivati i punti. Ad inizio gara la Givova mette dentro i primi canestri, ma Cassino risponde e ben presto allunga fino ad ottenere nove lunghezze di vantaggio. Il primo parziale è De Rosso Blu per 24 a 18. Cassino comanda anche per tutto il secondo periodo, le lunghezze di vantaggio diventano addirittura 22, il quarto si conclude 49 a 27, il match sembra davvero in discesa. Il vantaggio resta molto ampio anche per metà del terzo periodo, poi Scaffati cresce, Cassino scende e pian piano la distanza si riduce. Ai campani riesce tutto, a Cassino in pratica più nulla ed il terzo parziale va agli archivi sul 59 a 55. Dopo poco più di quattro minuti dall'inizio dell'ultimo periodo Scaffati passa in vantaggio sul 61 a 62, dall'in poi Cassino non rientra più. Scaffati allunga mentre i padroni di casa accorciano fino almeno uno ma non hanno la forza di ribaltare, termina così con l'ennesima sconfitta un girone di andata davvero da dimenticare.